Cari Prataroli, cari Pratarole, oggi parliamo di finanza, ovvero un modo per ottenere una bicicletta all'avanguardia senza dover sborsare subito tutta la cifra. Oggi parliamo del prodotto Easy Ride. Che cos'è? È un noleggio a lungo termine per le biciclette. Sì, lo stesso modello che possiamo trovare per il noleggio auto adesso è disponibile anche per la bicicletta ed è un ottimo modo per poter avere accesso a una bici magari di ultima generazione molto costosa senza dover sborsare immediatamente tutta la cifra. Infatti è possibile mettere in piedi un noleggio lungo termine che può avere durata 12-48 mesi, quindi uno o due anni. Come funziona? Innanzitutto si sceglie il modello desiderato, quindi si apre la pratica presso la finanziaria la quale dato esito positivo ci farà consegnare il modello da noi scelto. A questo punto stabilita la rata mensile inizieremo semplicemente a pagare. La rata mensile può essere in funzione dell'eventuale anticipo che avremmo dato all'inizio, quindi ovviamente se daremo un anticipo la rata sarà più bassa, diversamente sarà un po' più alta. Terminato il periodo dei due anni cosa succede? Abbiamo diverse opzioni, la possiamo tenere, quindi magari rifinanziamo l'importo e continuiamo a pagare. La teniamo e in capo ad altri per esempio due anni sarà completamente nostra. Oppure invece la restituiamo, magari vogliamo cambiare modello oppure sono cambiate le nostre esigenze, ci vogliamo dedicare più all'enduro piuttosto che una bici più da città. Cambiamo le esigenze, cambiamo la bicicletta. Terza opzione, possiamo restituire la bicicletta e terminare così il nostro rapporto con la finanziaria e con la bicicletta. Questa formula presenta diversi vantaggi, innanzitutto possiamo, come dicevo prima, avere accesso a una bici di ultima generazione pur non disponendo nell'immediato di tutta la cifra. Abbiamo la possibilità di aggiornarla ogni due anni in funzione delle nostre esigenze, inoltre abbiamo anche un'assistenza tecnica specializzata per mantenerla sempre al top. Insomma, è un'ottima soluzione. Volete saperne di più? Scrivetelo qua nei commenti che vi risponderemo con piacere e non dimenticatevi di iscrivervi al canale in modo che potete essere aggiornati sempre su tutte queste novità. Ciao la paroli, ci vediamo per Strax!